E' che non dorme mai a conto? Scusi la faccia tosta, ma se hai la macchina, mi dia un passaggio, sono di scena alle 11. Ma io non ho la macchina. Alfonso? C'è uno che cerca Erika, puoi accompagnarcelo tu. Insomma, mi ha lasciatelo stare il povero diavolo, non capisce più niente? Oggi viaggerò su due stazzini in... Sono presto? Ecco. Voilà. Chi sei tu? Concita. Concita? E non ti interessano le cose che sto raccontando? Raccontate tutte le stesse cose. Perché? Tu vieni con me in America. Fai una maratona in tante città, è un guadagno sicuro. Pagata bene. Era un po' più lontano, lei, giù a via palla. Vita, Vita, indovino, indovino io, non mi dica io. No, no. Il mio mio... No, no, stai tranquillo. E' andato tutto bene. La mamma ti saluta, il babbo, tutti quanti. Ti ho portato un cesto d'uova. Viti per la prima volta Don Michele. Un mese fa, per la strada, alla fermata dell'autobus. Ricordo... Cosa pensi della tua regina? Penso che se avessi io uno sposo come Antonio, gli sarei fedele. Un cane fedele. Una donna mai. C'è risposta? No. Nessuna risposta? No, potete pure andare, grazie. Così fatta una festa a scullato. Buongiorno, donna Maria. Buongiorno. Dona, cammina. Leggi. Leggi che cosa scrive. Sembra che il re degli unni mi stimi più di voi. Miserabile. Bingo, 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 voglio andare fino al conto, non mi muovo, non mi muovo, non mi. Bingo, 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 scusa, ma non vengo, io rimango qui. C'è giusto, che ci sto a fare in cucina io? C'è sera lavoro, no? Voglio lavorare anche io. Eccoli qua, eccoli qua, d'accordo, tutti e due. E lei sempre, la minanese, la settentrionale, la mentettina attiva, Giovanna d'Arco. E sta scena, i colleghi, la bocca aperta, che la mela. Aspetta la bocca aperta, che te sei in Mosca. Ciao! Ah! Eccellenza! Eccellenza! Che cosa fate qui? Donna Carmilla. Corri in pienta a mare dell'amor mio che fu il più bello che tu potrei sognare e mai più ritrovare. Mi chiamerai in van, il tuo affezionatissimo e indelebile Nicolino. Il naso è per forza, dunque. Il naso, lo prendiamo da destra, gli occhi perfetti. Lo sai che i suoi sono degli occhi stupendi, Antonietto? Perché mi guarda così? Ha paura di me? È la prima volta che si trova sola con un uomo e... È la prima, la seconda volta. Ma quante cose vuol sapere lei? Oh... How do you like that for a laugh? I do not laugh. I only... Only what? I don't know what. E non ho con venti, non ho con venti. Oh, bonita, ora è! Rapa, rapa, bonita! Non vedo qui con la mano, non mi acaricio del pelo. Non vedo qui con la mano, non mi acaricio del pelo. Che mi muente ha olfato, e ha lo mejor dolerlo. che mi puoi ti hanno fatto e a dove... This is my farm, this is my home Inside is my kitchen I put out these blankets and I sleep on them myself in the night And upstairs is my bedroom I could see it on your face You had a premonition Can you always tell? 218, please One step, two step, step you do A new step, live your life You'll have the world on the end of the thing If you do it with a bang bang bomb A bang bang bomb A bang bang bomb He doesn't look old enough to drink I'm old enough to do anything Any time I can cancel Yeah, if you do it Grazie a tutti. Ci vorrà del tempo io tanta paura. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No. 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 Imagine, what a strong and beautiful woman she is. Where do you think she go it from? I curse you. To the devil I curse you. che tu sia dannata Cristina dannata perché ha cambiato cognome? Sofia Lazzaro perché è bella che fa risuscitare i morti e a me Lazzaro mi piace assai che sono? Mimosi che belle che belle non sono riuscita a trovarle veri questo è il regalo più bello che abbia mai ricevuto